Io sono Andrea, alias Scanna, segretario in carica dei Jolly Roger, e questo è CineJolly. Uno dei migliori tornei che noi Jolly ci ricordiamo l'abbiamo svolto il 14 marzo del 2009. L'evento era operazione Tiger Rare, organizzato da Lui D'Ali Crisi. Il torneo consisteva nell'effettuare un percorso con lo bigene ben difesi, recuperare informazioni in pazze qua e là, superare ostacoli, superare una Killing House e tutto ciò in notturna. La cosa più emozionante fu trovare lui e salire sul podio al secondo posto. Per adesso è tutto, se vorrete ci vedremo domenica sui campi da gioco oppure nel prossimo episodio dei CineJolly.